Sindaco di Ponte Cagnano, Faiano Giuseppe Lanzara, ha comunicato con un post su Facebook il lavoro incessante per la sicurezza anti-Covid-19 e anche per garantire l'incolumità dei cittadini. Scrive nel post, continua il lavoro delle forze dell'ordine impegnate sul nostro territorio. I dati settimanali evidenziano un presidio importante della zona. Nello specifico, i carabinieri registrano 451 controlli effettuati, 2 perquisizioni domiciliari, 7 perquisizioni veicolari, 15 denunce in stato di libertà, inoltre 1.500 euro di refurtiva, recuperata 16 contravvenzioni elevate, di cui 5 per inosservanza delle norme anti-Covid. La polizia locale, impegnata nell'operazione in strada nei giorni 23, 24 e 25 aprile, ha effettuato controlli su 135 autoveicoli ed ancora Lanzara, mette in evidenza le guardie rurali. Questa settimana hanno elevato 7 verbali per abbandono rifiuti, di cui 2 da 50 euro e 5 da 500 euro, oltre a diversi controlli microchip per i cani e controlli notturni sulla fascia costiera. A supporto di queste attività partecipa il nucleo elicotteristi, che mette in campo le proprie risorse e i propri mezzi. Inoltre, i carabinieri di Polizia Municipale e Asad Pegaso, con la loro presenza presso il polo vaccinale, garantiscono il regolare svolgimento delle attività, evitando assembramenti. A nome di tutti i cittadini di Ponte Cagnano-Faiano, ringrazio questi uomini che con il loro impegno garantiscono la sicurezza per le nostre famiglie.